Fitch e Moody's fanno il tifo per l'Italia. Le due importanti agenzie di rating tornano a scommettere sul nostro paese. In un'intervista a Bloomer TV, infatti, il direttore di Fitch, David Rieley, arriva a dire che l'Italia non ha bisogno di nuove misure di austerità, dal momento che bastano quelle già varate, mentre è arrivato il momento di nuove riforme. Anche secondo Moody's, la stagione più difficile mai attraversata dall'Eurozona è solo a metà del proprio cammino, ma aggiunge che nel migliore dei casi, paesi come Grecia e Irlanda potrebbero completare il loro programma di risanamento dei conti entro il 2016, mentre altri paesi come Italia, Spagna e Portogallo potrebbero già uscirne entro il 2013. Una scommessa è una sfida per il governo Monti, che continua a ricevere apprezzamenti e fiducia, soprattutto se messo a confronto con il precedente governo. Tanto che Rieley, sottolinea l'Italia, deve affrontare un rischio politico prima che finanziario, soprattutto pensando alle prospettive del 2013, quando si andrà ad elezioni, perché ci sono preoccupazioni su chi guiderà l'Italia. L'ottimismo intorno all'Italia fa ripartire i mercati, fermati ieri dal veto del governo tedesco e della Bundesbank al tetto antispread. E forse è anche un segnale per la BCE a continuare su questa strada. C'è un clima molto positivo, sia perché i mercati si sono calmati rispetto alle sfuriate di luglio, sia perché stanno scendendo gli spread per l'Italia e per la Spagna. Credo che sia più che altro basato poi su una serie di, chiamiamole, aperture di credito, cioè la fiducia che siamo in prossimità di questi interventi che sono stati annunciati dalla Banca Centrale Europea e questi interventi molto probabilmente si sta scommettendo, si concretizzeranno, perché soprattutto la Spagna accetterà a questo punto di fare questa domanda ufficiale di aiuti e questo aprirà la strada, la possibilità di interventi di questo genere. Il caso dell'Italia resta invece molto ancora incerto, perché come sappiamo le dichiarazioni del governo sono state per ora nettamente contrarie da questa richiesta. Quindi c'è un clima di fiducia, ma è un clima di fiducia che potrebbe in qualche modo essere smentito da quello che avverrà nelle prossime settimane, perché dipende tutto dalle decisioni che verranno prese a livello di Banca Centrale Europea e a livello di Consiglio Europeo. Quindi è un'apertura, come si dice, di credito, però un'apertura di credito che oggi è ancora sottoposta a molte, molte incertezze.